La speranza è nelle parole di Don Salvatore. Appena 24 ore fa era diacono, ordinato presbitero prima del tempo, ne ha davvero poco perché la sua malattia, in uno stadio terminale. Non posso abbandonarvi ora sul più bello, ha spiegato ringraziando tutti, anche i medici, i buoni samaritani. Nel miracolo ci crede più degli altri e la prima preghiera è per Papa Francesco che lo aveva chiamato dopo aver saputo della sua salute e della decisione di affrettare i tempi per fargli realizzare il sogno della sua vita. Sarai sacerdote per sempre, gli ha ricordato il Vescovo, è un buon pastore, non abbandona mai le sue pecore, come scritto nel Vangelo di Giovanni, letto durante la cerimonia in casa, seguita sul maxi schermo da centinaia di fedeni nella chiesa del crocifisso a Barletta. Alla fine della messa l'applauso di gioia e la festa. Contenta? Molto, molto, molto bene. Quello l'ho vista di nasce, quello è stato proprio come un figlio per me, Salvatore. Una storia triste ma al tempo stesso una testimonianza di fede unica, un messaggio che arriva dritto al cuore della gente, dei giovani e dei tanti seminaristi, quasi a dire che è bello essere preti. Loro sono nel cammino che ha fatto Salvatore, cioè loro credono a questa chiamata e la verificano con l'aiuto degli educatori. Se ci sono veramente le motivazioni che sono il supporto necessario per una vita sacerdotale di ministero. Possiamo dire che è bello essere preti? Ah, per me sì, guardate. Per me sì, io non ho dubbi.